Ciao a tutti, bentornati. Ho trovato la zona dove è caduto il meteorite dopo che ho distrutto l'ultimo orb. Adesso devo cercare di... ah, mi sta facendo danno stare su quel materiale. Si potrà scavare con il mio piccone? Sì. Qui è importante stare attenti. Ma fanno un danno davvero assurdo questi affari. Uffa, continuo a prendere danno. Ci mancava solo lo stupido cactus. Caspita, quanto sono stupido che sto sopra quell'affare lì. Morto per un cactus. Ah no, sono bruciato. Couldn't put the fire out. Perché direi che quegli affari lì ti... ti fanno anche prendere fuoco. Adesso torno lì, ovviamente. Rieccomi qui. Allora, devo cercare di scavare e nel contempo non farmi colpire da quegli affari lì e non ce la sto facendo. Poi questi da... Da dove arrivano? Quanti ne arrivano? Con questa spada le distruggo in un attimo, però non se non riesco a scavare. Bisogna anche stare attenti perché andare su questa roccia fa danno. Bene, ora cerco di scavare tutto in questo modo. Oh, quanti ne arrivano adesso. Posso anche distruggerli prima che escano dalla sabbia. Comunque dicevo, adesso cerco di prendere tutta questa roccia, questa roccia di meteorite. E poi vediamo cosa se ne può fare, insomma, che armi possono essere create con questo materiale o attrezzi o oggetti particolari. Bene, sono tornato. Ho estratto fino all'ultimo pezzetto di meteorite. E quindi sono arrivato ad averne 266. Adesso vediamo dalla guida che cosa se ne può fare. Probabilmente mi dirà che devo farne per forza dei lingotti, come al solito. Però non vorrei fare lingotti, puoi magari scoprire che invece no. Solo lingotti, ok. Classico. Facciamo questi lingotti. 44 lingotti. Oh, non chiude mai la porta questo. Comunque la spada d'erba è davvero troppo forte. Colpisce da troppo lontano. E inoltre è un'abbina abbinata con i ferrar close. Fa anche troppo veloce. Mi sembra davvero un'arma troppo forte. Ah, posso finalmente fare le spade laser. Per una spada laser però ci vogliono ben 20 pezzi. Allora, posso fare questo hamax di meteorite che è sia martello che ascia. Posso fare una space gun utilizzando una flintlock pistol che posso comprare dal venditore di armi senza problemi. Costa anche poco, se ricordo bene. 30 barre di meteorite ce la faccio. E 10 stelle cadenti. E ne ho anche di più da qualche parte. Star cannon. Però mi serve il mini shark che non ho intenzione di comprare perché costa troppo. E... Proiettile di meteorite. Quanto è che fanno un proiettile normale? 7 e questo fa 9. E se non sbaglio è quel famoso proiettile che rimbalza. Ma mi sembra stanno perché non trovo un piccone. Forse era all'inizio. No. Non so se sto sbagliando qualcosa. Perché non c'è il piccone. Non esiste un piccone di meteorite. Adesso devo pensare a cosa fare. A che arma fare. Non mi dispiacerebbe fare... Una spada laser come volevo fare all'inizio. Però certo ora che ho già la spada d'erba. Non ha troppo senso perché sarebbe come prendere una cosa che fa meno danno. Anche se mi ero tenuto apposta i... Le pietre preziose per farla. Potrei fare anche questa di diamante volendo. Certo che però ho anche una space gun. Che usa 8 mana. Io ho 180 mana. Ah ma allora non sono al massimo di mana. Io credevo di essere al massimo. Non mangiavo più le stelle viola. Vabbè. Comunque usa 8 di mana. E quindi significa che... Se visto che spara molto velocemente potrei finire... Senza... Senza mana. Però è anche vero che il mana si rigenera da solo. Eh devo pensarci qua. Devo davvero pensarci. E scegliere... Che cosa fare. Anzi... Se magari qualcuno di voi... Ha qualche idea in proposito. Ovviamente scartando subito l'armatura lo sapete. Magari poteste darmi un consiglio su cosa fare. Fra... Fra quelle proposte qui. Per consumare tutte le mie barre di meteorite. Quindi dai. Facciamo così. Scrivetemi nei commenti qualche consiglio. Perché mi serve. Non ho ben idea cosa fare. E vediamo nel prossimo episodio... Come impiegare queste barre di meteorite. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti